C'è stata un'eruzione delle forze dell'ordine che hanno forzato il blocco no tap a Melendugno sgomberando il campo e spiantando gli ulivi. Un commento su questa storia, lei come sindaco e anche come Comune di Napoli si era schierato a favore dei movimenti? Che brutta pagina, se devo essere sincero, che brutta pagina sulla quale noi ritorneremo con forza ho già espresso la solidarietà al sindaco, che ho chiamato telefonicamente e una violenza che non ci piace, una violenza sui beni comuni, sulle terre, sugli ulivi sempre per fare interessi di pochi e non gli interessi delle collettività. Noi saremo sempre a fianco chi difende i beni comuni, chi difende il nostro paese, chi difende la natura chi difende le moltitudini, non si fanno le cose contro i territori, lo diciamo sempre abbiamo detto ieri il vice sindaco a Bagnoli, non si ricostruisce e si rigenera a Bagnoli senza la città non si può in una località così bella fare qualcosa contro i territori, quindi solidarietà assoluta ai movimenti, al Comune, alla città contro un atteggiamento violento e inaccettabile.